Sì, questa è la cosa più importante, aver vinto, come il punteggio poi è relativo. Abbiamo vinto, siamo in finale, che era uno dei nostri obiettivi, arrivare in fondo, e poi ora la finale ce la godiamo e come va, maestro? Sì, per me quella finale è una finale, una super finalissima per me, perché ho fatto il massimo e devo ringraziare Vito che è stato bravissimo a portarmi in finale. Grazie, veramente grazie Vito. Spero di fare una bella figura in finale. Sì, sapevamo che sarebbe stato un match difficilissimo e infatti si è girato su pochissimi punti. Siamo stati bravi e fortunati nel vincerli quelli più importanti e alla fine abbiamo portato a casa una bella vittoria contro una coppia molto forte. La roulette russa è sicura perché loro sono molto forti, quindi si giocherà su pochi punti, dobbiamo essere concentrati, fare il nostro e continuare come stiamo facendo.